Dante deriva la sua immagine della montagna del Purgatorio quasi da un calco rovesciato della voragine infernale. Anch'essa è suddivisa in dieci sezioni, due zone dell'antipurgatorio, sette cornici e infine il paradiso terrestre. Anche il Purgatorio nasce dalla caduta di Lucifero che scava l'abisso davanti a sé e fa ritirare la terra fino a formare una montagna, l'unica isola dell'emisfero australe occupato dall'oceano. Il monte viene destinato a luogo di penitenza dal momento in cui viene commesso il peccato originale da Damo ed Eva, cacciati dal paradiso terrestre. La struttura del Purgatorio dantesco è decisamente più originale dell'inferno, in quanto mancano completamente i riferimenti classici, mentre quelli biblici si riducono al paradiso terrestre. Si tratta di una montagna altissima, con una larga base che partendo dalla spiaggia si restringe progressivamente verso l'alto con una serie di terrazzi. Sulla soglia più bassa della montagna, Dante colloca l'antipurgatorio, che contiene le anime non ancora ammesse all'espiazione. Sono spiriti non ancora degni della salvezza perché animati da sentimenti e affetti terreni, scomunicati e pentiti, negligenti per pigrizia naturale, pentiti in extremis. Attraversata la valletta dei principi e la porta, Dante entra nel Purgatorio propriamente detto. I sette gironi del Purgatorio ospitano i peccatori che in vita commisero i sette peccati capitali, superbia, invidia, ira, acidia, avarizia, gola, lussuria, nell'ordine indicato da Gregorio Magno. Nel diciassettesimo canto Virgilio illustra la struttura morale del Purgatorio ispirata alla Somma Teologica di Sant'Ommaso. Il peccato deriva da un errato orientamento dell'amore. Chi desidera il male del prossimo commette peccati di superbia, invidia e ira. Chi ama Dio troppo debolmente pecca di acidia. Coloro che amano eccessivamente i beni terreni diventano avari, golosi e lussuriosi. La cima del monte è occupata dall'Eden, un'ampia e dolce selva solcata da due fiumi e popolata da uccelli. In questo luogo destinato in origine all'umanità innocente, le anime dimenticano i peccati e si dispongono alla beatitudine del paradiso. La gravità dei peccati si attenua man mano che si sale lungo le cornici della montagna. A differenza dell'inferno, le pene del Purgatorio non sono eterne, ma destinate a cessare dopo il giudizio universale. Le anime purganti non sono ferme, ma salgono la montagna, espiando successivamente tutte le impurità accumulate in vita. Nel suo viaggio, tuttavia, Dante farà in modo di incontrare gli spiriti nel girone dove espiano la loro colpa più caratteristica.